Il castello è di impianto quattrocentesco e sorge su un preesistente maniero di epoca normanna, originariamente era di forma quadrilatera e contava ben quattro torri poste ai quattro angoli. Nella prima metà del Cinquecento la famiglia feudataria dei Tolomei si occupò di ristrutturare il castello ingentilendolo con un'opera di restyling considerevole che eliminò gli elementi architettonici strettamente legati alle funzioni difensive. Nel piazzale d'ingresso della facciata principale vi è un grande portale di matrice napoletana sovrastato dallo stemma della famiglia Basurto e risalente allo stesso periodo di ristrutturazione dell'edificio, cioè il 1770. Inizialmente l'adrio del castello era molto più grande ed era in parte interessato dalla presenza della chiesa matrice del paese dedicata a San Giorgio. Esso è molto elegante e raffinato, abbellito da un loggiato ad archi a tutto sesto che poggiano su colonne singole rette da basi quadrate. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti